A proposito di 25 aprile, a pochi giorni di distanza, vi voglio raccontare di quando lo scultore Andrea Cascella e lo scrittore Gianni Rodari, entrambi partigiani, salvarono la vita al pittore Mario Sironi, lui invece fascista. Vi voglio quindi raccontare di quando l'arte letteralmente ti salva la vita. Milano, 25 aprile 1945, orario del tramonto. Le truppe tedesche hanno abbandonato la città, città che è presidiata e perlustrata da gruppi di partigiani che hanno l'obiettivo di scovare e disarmare gli ultimi fascisti rimasti in armi. Una di queste pattuglie è comandata dallo scultore Andrea Cascella, che nella penombra del crepuscolo vede per strada un uomo che procede con passo molto veloce ed è armato di pistola. La pattuglia comandata da Cascella raggiunge l'uomo, lo disarma e Cascella lo riconosce anche. Quell'uomo è Mario Sironi. Mario Sironi è uno dei più importanti artisti italiani del ventesimo secolo. Aderisce ad entrambe le avanguardie made in Italy, che sono finite nei libri di storia dell'arte, prima il futurismo e poi la metafisica, e agli inizi degli anni venti fonda una sua corrente artistica e una scuola di pensiero, il cosiddetto Gruppo Novecento. Tra le due guerre e soprattutto negli anni trenta è probabilmente l'artista più importante d'Italia anche per le sue simpatie e la sua adesione all'ideologia fascista. Quindi lo scultore Cascella, antifascista e partigiano, ha di fronte il pittore fascista e del fascismo Mario Sironi. Ma Cascella conosce la fama di Sironi e lo stima dal punto di vista artistico. E quindi, nonostante una guerra che deve ancora finire, nonostante l'ideologia completamente opposta all'uomo che ha di fronte, nonostante l'odio e desideri di vendetta dei partigiani nei confronti dei fascisti. Come dichiarerà Cascella stesso, è vero, Sironi era un fascista, ha aderito alla Repubblica di Salò, ma fino a prova contraria non ha commesso crimini. Cascella decide di sottrarre Sironi al resto della pattuglia partigiana, di nasconderlo nell'androne di un palazzo e gli consiglia di abbandonare Milano col favore delle tenebre. Prima volta che l'arte è un artista salva la vita a Mario Sironi. Mi seguirà una seconda, il giorno dopo, secondo la versione in cui Sironi ha lasciato Milano in automobile. Qualche giorno dopo, secondo la versione in cui Sironi ha lasciato Milano a piedi solo con il suo cane al guinzaglio. Indipendentemente da quando, sta di fatto che sulla strada tra Milano e Como, Sironi si imbatte in un'altra pattuglia partigiana che ha formato un posto di blocco. Il comandante di quel posto di blocco è un insegnante 25enne che ha dovuto smettere di insegnare perché è antifascista e perché si è rifiutato di eseguire incarichi lavorativi calati dall'alto, dal partito nazionale fascista, e che diventerà poi uno dei più grandi scrittori, erroneamente e ingiustamente definiti per ragazzi barra bambini, come se fosse facile scrivere per il pubblico più esigente che è appunto quello dei più piccoli. Quell'uomo è Gianni Rodari, in realtà uno dei più grandi intellettuali del XX secolo. È entrato nelle formazioni partigiane dopo l'8 settembre, ha operato nell'Alta Lombardia e negli ultimi giorni di guerra è addetto al controllo dei documenti. Sono molti infatti i fascisti che cercano di scappare verso la Svizzera con documenti falsi. Non è falso il documento che Sironi presenta a Rodari. Ecco come andarono le cose a detta di Rodari che così raccontò a guerra finita. Sironi Mario, il pittore delle periferie, dei gasometri, delle stazioni di servizio in mezzo al deserto, del grigio sotto i cieli marroni o viceversa? Sironi rispose di sì con un sorriso disperato. Sa che potrebbe essere fucilato da un momento all'altro. Ma anche in questo caso un intellettuale, un uomo di cultura conosce Sironi per la sua fama e lo stima per la sua opera. Quindi Rodari ordina Sironi di passare il posto di blocco e di allontanarsi il più velocemente possibile. Sironi obietta che potrebbe non essere così fortunato al prossimo posto di blocco. Sempre Rodari racconta, non so se feci bene ma gli firmaio lascia passare in nome dell'arte. Seconda volta che l'arte è un artista salvano la vita Mario Sironi. Siccome la storia e la storia dell'arte la scrivono i vincitori, dopo la guerra Mario Sironi rischia l'oblio, rischia di essere volutamente dimenticato, censurato, snobbato e le sue opere pubbliche, soprattutto affreschi che tuttora ornano i palazzi istituzionali adesso della Repubblica, rischiano di essere distrutti. Fortunatamente di recente la critica, e giustamente, è tornata a considerare Sironi uno dei più grandi artisti italiani del ventesimo secolo. Se ti ho incuriosito, se ti ho raccontato qualcosa che non sapevi, due sono i tasti da schiacciare. Mi piace e segui. Dal vostro Sangre, alla prossima!